Fra le vittime dell'insostenibile leggerezza delle finanze vaticane c'è un personaggio singolare, Ettore Gotti Tedeschi, economista cattolico, banchiere, ex presidente dello IOR, la banca del Vaticano, le cui vicende restano sempre un po' misteriose. Lo abbiamo incontrato. Dottore Ettore Gotti Tedeschi, buongiorno, grazie di essere con noi a Euronews. Lei è stato il presidente dello IOR, la banca vaticana, al momento del pontificato di Benedetto XVI e aveva cercato di avvalersi dei maggiori esperti antiriciclaggio per riportare il Vaticano nella white list. Perché il Vaticano non ha accettato il suo piano? Molte persone non avevano capito cosa era successo dopo l'11 settembre del 2001 e quindi conseguentemente non avevano capito che le normative nuove internazionali imposte ai sistemi bancari sarebbero diventate molto più stringenti. Secondo, perché molte persone all'interno del Vaticano correttamente temevano una perdita di sovranità dovendo accettare queste nuove norme internazionali. Terzo, per una questione di cultura, molte persone ritenevano che i controlli non fossero leciti perché nel Vaticano ci sono dei fatti, degli avvenimenti da difendere confondendo segretezza con riservatezza e non capendo che se non in un contesto come quello che stavamo vivendo una mancanza di controlli interni avrebbe provocato maggiori controlli esterni. Quarto punto, c'erano delle persone che non capivano che un rischio nei confronti di quello che era la normativa antiriciclaggio avrebbe comportato una perdita di credibilità del Santo Padre. Il problema che porta tutto questo in discussione è che mi hanno sfiduciato e cacciato con nove punti totalmente falsi. Io ho chiesto immediatamente un'inchiesta su questo, non c'è mai stata e non sono mai stato interrogato. La ferita grave che resta anche nella Chiesa è che non ha voluto capire la verità, sapere la mia verità. Quando lei è stato appunto brutalmente cacciato temeva per la sua incolumità e aveva anche preparato un memoriale sui segreti della Banca Vaticana. No, in realtà è andato in un modo abbastanza diverso, però tutto questo è materia che è stata, diciamo, data alla Procura della Repubblica. Preferirei evitare di parlarne. Monewell, il comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, ha sempre individuato molte lacune nella gestione delle finanze vaticane, soprattutto in materia di riciclaggio. Ma secondo lei, Papa Francesco, ce la farà a rimettere le cose a posto? Monewell, nel periodo di mia attività come Presidente dello Ior, ha avuto due presenze fondamentali. La prima è quella del novembre del 2011, quando venne a vedere tutto quello che avevamo fatto nell'anno precedente e diede un'opinione estremamente positiva. Poi a dicembre dello stesso anno, quindi un mese dopo, la legge viene sorprendentemente modificata. Quattro punti della legge e soprattutto viene cambiato il ruolo dell'autorità di controllo. Succede Vatilix, una banca, JP Morgan, chiude il conto con un clamore anche mediatico molto forte. Monewell ritorna in Italia e ad aprile del 2012 scrive un secondo report in cui dice avete fatto un passo indietro. A quel punto però, il mese dopo, io non c'ero già più. Lei pensa che quindi all'interno della Banca Vaticana le malversazioni continuino? Non ne ho le più parole di idea. Se manca una legge, se le procedure non ci sono e non c'è un'autorità di controllo, è ovvio che ne discende un rischio. Comunque, Papa Francesco ce la farà? Papa Francesco se vuole intervenire realmente, realmente, e non con dichiarazione di riforme alla Renzi, se vuole rintervenire deve informarsi su cosa è successo. Anche Hollywood, col film The Big Short, denuncia il cinismo criminale dell'alta finanza a stelle strisce. Mi riferisco ai muti su Prime, ai titoli tossici. Ma secondo lei, basta veramente che un banchiere sia animato da buoni sentimenti per disinnescare le conseguenze letali delle sue azioni? Però nel caso specifico, il massimo del cinismo non è stato negli ambienti dei banchieri, è stato negli ambienti dei politici, che per fronteggiare la crisi, il crollo del PIL e per fronteggiare la speranza di poter ridurre il debito senza fare un vero deleraging, hanno avviato gli spiriti animali famosi dei banchieri, i quali non vedevano l'ora di poter operare. La responsabilità è personale, Otto Valenti, non c'è una responsabilità collettiva, è di ogni persona. Ogni persona deve sapere se quello che fa è buono o non buono per se stesso e per il bene comune. Ma com'è accettabile che un banchiere possa incassare i bonus di prodotti scadenti e rimanere impunito, di non finire davanti alla giustizia? Se vuole una valutazione di carattere tecnico è facile darla. Dal punto di vista morale la mia valutazione è che non dovrebbe mai averla e se l'ha avuta dovrebbe restituirla. Le decisioni economiche le prendono alcune persone illuminate che stanno tra New York e Washington. A Bruxelles mandano le conclusioni con su scritto to do. Questo è quello che lei scrive su questo libro intervista che lei ha pubblicato recentemente con il giornalista Paolo Gambi. Ora io le chiedo, considera veramente che quindi l'Europa a livello internazionale non conti nulla? Io credo che oggi uno si dovrebbe provare una domanda, ma chi è che conta? Oggi non si sa chi è e dov'è il potere. L'Europa avrebbe un grandissimo vantaggio, è l'ago della bilancia, perché potrebbe rafforzare una strategia degli Stati Uniti che è preoccupatissima dell'Asia che sta crescendo drammaticamente, oppure potrebbe fare delle scelte. L'Europa è chiave in questo momento, secondo me, in questo sistema di riassetto del potere geopolitico. Il fatto è che cos'è l'Europa? Non l'ho capito, io non ho capito chi è l'Europa, cos'è l'Europa. Se l'Europa è Bruxelles stiamo freschi, se l'Europa è la Germania stiamo freschissimi. Time is out of joint, scrive Shakespeare nell'Amleto. Queste poche parole a me sembrano indicative di quello che succede nel mondo, in tanti settori, probabilmente da secoli, ma lei crede veramente che le religioni, la moralità possano mettere le cose a posto? Non esiste una religione che impone un sistema culturale. Non si impone niente. Bisogna credere individualmente e responsabilmente, utilizzando la nostra libertà personale, che cos'è bene e che cos'è male. E per questo la Chiesa ha un ruolo fondamentale, quello che è mancato in gran parte negli ultimi 30 anni, che ha portato una gran parte del mondo e della leadership, anche politica, economica, a non avere più il senso della vita. E se io non ho il senso della vita, come posso avere e dar senso alle mie azioni? Dottor Gotti Tedeschi, io la ringrazio di essere stato con noi su Euronews. Grazie a voi. È stato un grande onore e piacere.